Catello Maresca, candidato sindaco di Napoli per il centrodestra, a margine di un incontro politico con il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, leader del movimento politico Coraggio Italia, ha parlato alla stampa sul tema dell'esclusione delle liste a suo sostegno. Tre liste, più quella di diretta emanazione della Lega. Il PM dice di essere pronto ad andare avanti anche con una sola gamba, ma intanto si presenta il ricorso al Consiglio di Stato e attacca il candidato del centrosinistra, Gaetano Manfredi. Ci sono, soprattutto dall'altro lato dello schieramento politico, persone che pensano di poter fare ancora mercato, campagne acquisti, pensano di stare in settori diversi dalla politica. I nostri candidati stanno con noi, condividono il progetto e non sono in vendita. Manfredi deve pensare ai problemi suoi sul suo lato e sulla sua lista, diciamo, e ne ha tanti, ne assicuro che ne ha tanti, non sa nemmeno chi sono i suoi candidati, c'è candidati in lista che inneggiano la camorra. Anche Matteo Salvini da Milano commenta la decisione del Tar come un tentativo di eliminazione dell'avversario politico. Ma intanto Gaetano Manfredi continua la sua corsa. Oggi è stata presentata la lista Napoli Libera, che fa riferimento al governatore De Luca a sostegno dell'ex rettore. È una lista che riprende il filone del civismo democratico che ha contribuito all'elezione del presidente De Luca alla regione Campania con un largo consenso. Noi pensiamo che quel cammino vada portato avanti anche al comune di Napoli. Manfredi sarà un sindaco importante per la città, per i tanti problemi e le tante aspettative dopo dieci anni di nulla. Grazie.